e quando cominciamo ci rendiamo conto che sono affollate di zone d'ombra di episodi non spiegati e forse inesplicabili di scelte non compiute di opportunità mancate di elementi che ignoriamo perché riguardano gli altri di cui è ancora più arduo sapere tutto o sapere qualcosa A presto Grazie a tutti. 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 . a tutti. . 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